Mimì, sempre lì, apatica, con l'occhio spento. Su, vita, la vita è bella, dai, muoviti, fai qualcosa. Eh? Vuoi che ti segna un centro sportivo? Vuoi fare qualcosa? Su, trovati un interesse, qualcosa di stimolante. Mimì, sempre con quell'occhio così. Lo vuoi un bel libro di Norberto Bobbio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.